Continua l'impegno della Fondazione Carima a favore delle strutture sanitarie di eccellenza del territorio. L'ente ha da poco erogato un importante contributo alla Scuola di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Camerino. In particolare i fondi, per la prima volta indirizzati in maniera specifica ad una facoltà universitaria, sono stati utilizzati per il completamento dell'ospedale veterinario didattico, struttura oggi considerata centro sanitario d'eccellenza per la caratterizzazione del personale medico che vi opera e per la dotazione delle più moderne attrezzature biomedicali. Operativa 24 ore su 24, la clinica con i suoi numerosi reparti e le due sezioni, una destinata ai piccoli animali e una ai grandi, rappresenta una realtà unica sul territorio regionale. Qui tutte le attività sanitarie che si svolgono, ha sottolineato il direttore sanitario, il dottor Andrea Spaterna, sono finalizzate, oltre che al benessere animale, alla formazione didattica degli studenti della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie, che vengono coinvolti in prima persona nello svolgimento delle attività cliniche e possono così acquisire conoscenze utili per la futura attività professionale. La facoltà ha recentemente ottenuto importanti riconoscimenti a livello europeo. Questa struttura, ospedale veterinario didattico, ha ricevuto da poco la visita della Commissione Europea EAEV, che l'ha ritenuta, l'ha valutata in maniera pienamente positiva, in quanto dimostratasi completamente in linea con quelli che sono gli standard, gli elevati standard di qualità imposti dalla comunità europea. Tale risultato è stato ottenuto fino ad oggi in Italia solo da altre cinque facoltà di medicina veterinaria. Un risultato raggiunto grazie alla sensibilità all'impegno del Comune di Matelica e dell'Ateneo di Camerino e al contributo della Fondazione Carima, che insieme a enti pubblici e privati hanno reso possibile il completamento dei vari reparti.